PASTERO Passerò tipo sei, sette, otto mesi l'anno sempre in tour. Adesso sono in Russia, poi sarò a Los Angeles, poi New York, poi Stuttgart, poi Berlin, poi London. È una vita che io amo, ripeto, io mi sento gipsi. Grazie al corpo poi, grazie alla danza. Questa è anche una delle cose che mi ha sempre esaltato di questo lavoro, che riesci comunque alla fine a comunicare con tutti, al di là della lingua, della cultura, della religione, delle esperienze diverse. Il corpo ha una sua espressività autonoma al di là della lingua, al di là della cultura, al di là della religione. È un linguaggio totalmente diretto che questo è un altro motivo per cui mi reputo fortunato. Sono diventato artista in maniera molto naturale, non lo so, perché sentivo questo. Perché poi guardandomi intorno non è che io abbia fatto esperienze diverse di vita se non quello della danza. Cioè la danza per me è tuttora un modo di vivere, non è soltanto il mio lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.